Ciao a tutti gli amici brasiliero, siamo nel campo degli Aironi, la squadra del vostro cuore, siamo veramente felici di trasmettervi questo messaggio di auguri di un grandissimo e bellissimo Natale, sperando veramente di cuore che tutti noi abbiamo una grande salute, soprattutto che è la cosa più importante, che è un anno meraviglioso 2012 e importante per tutti noi che non solo vinciamo noi qui a Viadana con gli Aironi, ma soprattutto che anche voi abbiate un grande risultato all'interno del vostro campionato regionale. Grazie e tanti auguri a tutti voi.